Il 40% dei giocatori di calcio in Europa è a rischio povertà dopo 5 anni dal ritiro. Secondo i recenti dati, solo 1 su 10 riesce a vivere di rendita dopo il ritiro. I risparmi accumulati vengono spesso sprecati, perché sono trascurati le basilari regole degli investimenti. Gli esempi più clamorosi e noti sono ad esempio Maurizio Schillaci, Jonathan Bachini, Adriano e George Best. Nonostante il raggiungimento di grandi somme di denaro, è ancora più importante attuare quella che è la pianificazione patrimoniale di noi consulenti finanziari indipendenti, che consente di pianificare al meglio le proprie entrate o il capitale che si ha a disposizione con quello che è un raggiungibile tenore di vita o obiettivo nel futuro. Hai mai sentito parlare di pianificazione finanziaria? Lasciaci un commento.